Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare il gioco ufficiale di Ritorno al Futuro Edizione a cura della Funko Games, che sono gli stessi che fanno i Funko Pop Che vedete in tutti i negozi, magari di miniature, fumetterie, soprattutto e cose del genere Gioco da tavolo, board game, che ci è stato regalato dal nostro carissimo amico Ryuzenka Che io ringrazio immensamente di cuore, ce l'ha fatto arrivare con Amazon Prime E quando c'è arrivata a casa, ho aperto il pacco, ho letto il bigliettino Ho visto che dentro c'era il gioco ufficiale di Ritorno al Futuro e mi è preso un colpo Nel frattempo, se vedete una codina che gira, c'è sempre Morgana Quindi Ryu, grazie, grazie, grazie immensamente Da amante come me dei film anni 80, 90, ma a volte anche qualcosa prima Sai sempre come centrare veramente al meglio i nostri gusti Ma tanto poi comunque ringraziamenti te li faccio anche nel corso e a fine video Ve ne parlo a breve, dopo la sigla Ritorno al Futuro Gioco, appunto, come detto poc'anzi, della Funko Games È un gioco di miniature cooperativo Che ci riporta a vivere gli ultimi istanti O diciamo i momenti più famosi e iconici del film di Ritorno al Futuro Il primo film Noi vestiremo i panni, potremmo vestire i panni di quattro personaggi Due dei quali mi fanno un po' ridere perché ora ve lo dico che sono Marty, ovviamente, McFly Doc Jennifer E Einstein, il cane di Doc Anche perché giocare nella parte di un cane è il mio sogno da sempre Ma soprattutto, visto che il gioco è ambientato nel passato Che cosa ci fa Jennifer? Che Jennifer era nel futuro Però vabbè, sì, c'è la storia che lui in Ritorno al Futuro 2 se la porta dietro Vabbè, ci può stare tutto un po' un miscuglio Per quanto, come detto, appunto il gioco è ambientato più nel primo film E lo scopo del gioco è molto semplice Riuscire a far partire la DeLorean a 88 migliorarie sotto la torre dell'orologio Quando viene colpita dal fulmine E tornare nel 1985, data di partenza di Marty Ma soprattutto fare innamorare George e Lorraine I suoi genitori Quindi dovete anche farli innamorare Comunque vi faccio vedere un pochino come funziona in un gioco velocissimo Solo, solo, solo cooperativo O si vince tutti o si perde tutti Da 2 a 4 giocatori della durata media di quarantina di minuti, un'ora al massimo Vi faccio vedere un po' che non funziona Ma prima di tutto, unboxing Confezione del gioco Tra l'altro il disegno molto, molto carino nello stile Funko Dove si vede la via principale di Il Valle La via della piazza dell'orologio Nel momento in cui la DeLorean viene colpita dal fulmine Per tornare al futuro, al presente Molto, molto, molto bellina E poi le strisciate di fuoco che lascia per strada sono veramente iconiche Apriamo Regolamento Tra l'altro ho fatto bellino, vi ricordate? Il fumetto quello di Marty Quando arriva che si va a schiantare con la macchina dentro il fianile È veramente, veramente interessante L'ho vestito con la tuta, quella gialla E poi ragazzi, le regole sono semplicissime Descritte bene Il gioco è soltanto in inglese Non è ancora stato portato in Italia E le regole sono veramente facilissime E poi spiegate altrettanto Chiaramente Sempre pieno zeppo di immagini e di punti di riferimento Quadranti di gioco Dove c'è anche il dispositivo per il sarto nel tempo Tra l'altro è veramente spettacolare E tutta quanta la mappa che vi faccio vedere aperta Questo praticamente è l'indicatore dell'amore Se vi ricordate Tra l'altro è bellino anche il logo dietro La fotografia Quella che Marty McFly Mano a mano che i suoi genitori non si innamoravano Allora iniziavano da scomparire Perché ovviamente non potrebbero generarli nel futuro E quindi c'è l'indicatore che va da un minimo di zero A un massimo che è qua giù al 13 In poi che vedete con tre cuoricini Voi per vincere la partita Dovete far sì che l'amore della vostra famiglia Arrivi in uno di questi tre step Dei vostri genitori Se no Avrete perso Poi all'interno ci sono tutte quante le miniature Che sono molto semplici però carine E all'interno ci sono Einstein Il cane di Doc Lorraine e George McFly Jennifer La ragazza di Marty Marty Doc E questo qui in rosso è Beef Tannen E più c'è Guardate bellissimo la DeLorean Dal lato già dipinta Veramente fatta Molto carina Abbiamo i dadi Che i dadi sono il vostro potenziale Che vi servono per fare i movimenti O anche azioni Mazzi di carte Che sono carte imprevisto O anche oggetti Che potete utilizzare Vi ricordate il Walkman Quello che Marty usa per fare il lavaggio del cervello A suo padre Bellissimo Un pochino di cubettini come segnapunti E poi abbiamo un altro po' di token In giro Ma la cosa più bellina È che ci sono delle parti della mappa A parte le schede dei personaggi Delle parti della mappa Soprattutto l'edificio della torre dell'orologio Fatta in 3D In cartoncino Quindi è veramente molto bellino ed evocativo Vi faccio vedere un po' come funziona Lo svolgimento del gioco È come Ve lo sarete già sicuramente immaginati C'è la mappa di Hill Valley Ci sono le miniature Anche degli antagonisti C'è Biffa ad esempio E la codina di Morgana E c'è anche la miniatura Della DeLorean Della macchina del tempo Che è veramente bellissima Voi avete la mappa di Hill Valley Che dovete girare Col vostro protagonista Il vostro eroe che avete scelto Che potrebbe essere Doc Marty Come detto Avete le planche dei personaggi Ogni personaggio è differente dall'altro Perché ha un'abilità propria speciale Ad esempio Marty può prendere il padre e la madre Con un'azione E spostarli tutti e due In giro per il Valley Lo scopo del gioco È quello di far fare Tutti gli step Mano a mano che passano i turni Alla DeLorean E farla arrivare Con i tre oggetti Che servono Che sono tipo Il carburante Il gancio per i fulmini Vi ricordate E il filo Farla arrivare Nei tre step finali Nelle tre caselle finali Della torre dell'orologio Per fargli fare il salto Alle 10 10 cos'era di notte Quando il fulmine Colpisce la torre dell'orologio E lo brucia E farla tornare A velocità di 88 Migliorare Nel futuro Nel 1985 Data appunto Di partenza Ma allo stesso tempo Dovete fare innamorare George e Lorraine I genitori appunto Di Marty McFly Perché se non riusciranno Ad innamorarsi Vi ricordate Il fatto della foto Che piano piano Scomparivano lui E i suoi due fratelli Nel futuro Ovviamente non amandosi Non potranno generare Marty E comunque fratelli E quindi la storia D'amore non potrà andare avanti Il vostro futuro Non esisterà più Quindi dovete fare Il possibile Facendo le vostre azioni Spostandovi per la città Per farle innamorare Tutte e due C'è una meccanica Molto semplice Avete dei dadi Che potete utilizzare Per fare delle prove Delle azioni O dei movimenti Degli spostamenti Però usando il dado Più su Ad esempio Le azioni Che rispetto ai movimenti Riscate di finire Tutta quanta La vostra riserva Di potere E di non potervi più muovere E poi ci sono Mano a mano Che passano i turni Le carte Imprevisto Che può succedere qualcosa Tipo potete essere Bloccati da qualche parte Ci potrebbe essere Un contrattempo Ma soprattutto C'è la miniatura Di Biff Ve lo ricordate Biff Tannen Che a sua volta Gira per il valley E se finisce In delle caselle Lo dovrete combattere Ma soprattutto Se finisce in delle caselle Dove ci sono George o Lorraine I vostri genitori Il tracciato Del loro amore Torna di qualche step Indietro Perché Biff Va a mettere I bastoni fra le ruote E soprattutto Ci provava Se vi ricordate Con Lorraine Quindi comunque Dovrete cercare Di tenerlo lontano E di picchiarlo Come nel film Per tenerlo bloccato E far sì Che i vostri genitori Si ricongiungano Spostandoli per la mappa E che si innamorino Quindi lo scopo del gioco E di far innamorare I vostri genitori Per far sì Che voi esistiate Nel vostro futuro Ma soprattutto Per prendere la DeLorean Nel momento giusto Farla colpire dal fulmine Per farla tornare nel futuro Ed è veramente Veramente Molto interessante Ed è un gioco cooperativo Qui o si vince O si perde tutti quanti In conclusione Questo ritorno al futuro È un gioco facilissimo Veramente 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 Alla portata di tutti Poi un gioco cooperativo Quindi anche se ci Avessero potuto metterci Un po' di sana competizione Quella che non fa male Non fa arrabbiare a nessuno L'hanno puntato Unicamente sulla cooperazione Ed è veramente Divertente ingegnarsi Per riuscire a fare Innamorare La coppia di genitori E soprattutto Tornare Al proprio tempo Tornare Nel futuro Nel presente Tutto questo Continuum Spazio temporale E poi vabbè E mi raccomando E mi raccomando Che lo troviate in lista Ma che sia finito O che proprio Non ci sia nella lista Contattate il supporto Mandate una mail A Corrado Il proprietario del negozio Al supporto E diteli Arrivo dal canale Di Coridan Si potrebbe avere Questo gioco Anche se l'hai terminato Non c'è in lista Lui farà il possibile Per farvela avere Al miglior prezzo Sul mercato Vi ricordo di usare Sempre il codice sconto A Coridan 7 Per avere uno sconto Pari al 7% E per ordini Superiore ai 79 euro Di spesa Le spese postali Con corriere in 48 ore In tutta Europa Sono gratuite Quindi andate a darci un occhio E se non lo trovate Scrivete una mail Al supporto Ancora una volta Grazie Ryu Ed è un gioco Per tutti Ma per i fan Il doppio Ciao ragazzi Alla prossima